ciao a tutti stasera preparo un primo piatto ottimo si tratta della pasta con salsiccia panna e zafferano io uso un formato corto di pasta che sarebbero i mezzi rigatoni potete usare penne farfalle quello che volete ok via la ricetta questa ricetta è per due persone e serve i mezzi rigatoni 160 grammi poi 200 grammi di panna da cucina pepe sale una cipolla una bustina di zafferano olio extravergine d'oliva 1 2 cucchiai e 250 grammi di salsiccia l'acqua già bolle andiamo a buttare la pasta e facciamo con i miei tritiamo la cipolla finemente poi va a gusto e potete anche lasciarla grossa o piccola come vi piace la mettiamo da parte e faccio vedere un pezzo poi facciamo così con tutta togliamo la salsiccia semplicemente dal budello così adesso andiamo i fornelli mettiamo ho messo nella padella l'olio extravergine d'oliva mettiamo la cipolla e anche la salsiccia e facciamo rosolare tutto insieme aggiungiamo vedete che bello rosolato a questo punto aggiungiamo la nostra panna giriamo per bene ok facciamo insaporire un paio di minuti con un cucchiaio ho preso un po di acqua di cottura della pasta prendiamone molto pochettino facciamo sciogliere lo zafferano e lo mettiamo dentro giriamo e andiamo insaporire ancora con 12 minuti andiamo aggiustare adesso di sale e di pepe viviamo e adesso andiamo a scolare la pasta direttamente in padella la pasta sempre al dente così la finiamo anzi un minutino prima che sia al dente così andiamo a saltarla direttamente in padella fino alla cottura saltiamo i nostri mezzi rigatoni il piatto è pronto eccolo qua il mio piatto è pronto vedete che bello ultimo tocco metto un po di grana se volete potete mettere anche il prezzimolo però io non ce lo metto perché mi piace così e un'altra grattata di pepe nero in grani e voilà spero che questa ricetta vi sia piaciuta ci vediamo alla prossima con nuove idee e un saluto ciao 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 Grazie per la visione!